Discord mi ha fatto crashare il telefono Quindi la prossima volta metto Discord al computer E faccio la live col cellulare Facciamo Non si fanno così le cuffie su Minecraft Ma sono io o lì? Bah Bah Dico solo b Sì, bellino Devo fare così No, è squadrato Cosa sto facendo? Povero Ale Ah, ho capito Mannaggia Discord Allora, devo fare 1 per 1 fa 31 2 per 2 fa 42 E Chico Tobi ha fatto una canzone Il nostro pano Nicola Bravi Perché sto? Nicola Bravi E' il suo dubbio Andare sul giallo Se il nostro moderatore Nostro moderatore 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 Dove è finito? Moderatore E' morto, è morto il moderatore, il nostro moderatore Non so dov'è finito, non so dov'è più, su Discord lui non c'è Perché è così grande questo fulmine? Non lo so, io non lo so Comunque le cuffie non sono un po' troppo grandine Allora, facciamo queste belle cuffie Aspettate, andiamo a vedere dov'è il nostro moderatore Moderatore, perché non è live? Perché c'è un disetto Moderatore, entri in live e lo condivido Moderatore, cosa sta guardando sulla TV? Vabbè, il nostro moderatore stava facendo i TikTok di Melodias Quindi, devo... Ah, ho dato un calcio alla mamma mia della sedia Se in questo momento fossi stato Lion, sapete quante minchia di parolacce sarebbero uscite? Ah, così Ah, in teoria le cuffie, dovrei farle così Sì, ma a me Cosa ha scritto? Comunque non è Melod... Allora chi è? Chi è se non è Melodias? È Shivani, eh? È Deku Ah, era Deku? Chi l'aveva visto a Deku? Scusi, Deku, non mi venga a casa E Bugaku E Bakuku Io conosco Deku, non conosco Bakuku Adesso tutti gli otaku Tutti gli otaku che guarderanno questa live Mi verranno a casa E mi picchieranno E mi faranno la bua Giusto, moderatore? Oh, cazzo Ehm, a posto Moderatore E niente, è crashato? Moderatore Scrive in chat, moderatore Mi sento solo, moderatore Moderatore è uscito dalla live Vinchia stai, moderatore Moderatore Mi ha lasciato da solo Moderatore Ma Mi ha lasciato da solo Moderatore Faccio un raid a Tecnoid È capace almeno? Ma dorme Ah, Ryan Moderatore Vai su Gestione streaming Vai su Attiva raid E lo mandi a Uno che è live Io prima ho fatto un raid I'm not E hello Avevo una personcina Io avevo una Lui ne aveva Dici a dordici Lo so che arriva in ritardo L'ho messo apposta Per connessione lente Ad alta Abbassa la terza Mi sembra Ehm Ecco La skin l'ho modificata Bellissima E questa è casa di Ale È un villone Mamma mia Oh Oh, queste cose Potete vederle solo Come si fa? Non si fa il raid? No, non le ricordo No, che mi si sente Il raid Non sai fare il raid Moderatore? No Mi ricordo Io faccio Mamma Ok, non so Vai via Comunque Solo voi Vai via Che se non si sente il mio audio Vai via Che si sente il ritardo Eh, vabbè Allora ragazzi Lo faccio vedere dopo Prima andiamo qui In questa Sei così brutto Che nessuno ti guarda Dai zitto Condividilo Sul tuo Sui tuoi podcast Così il podcast? Allora Tu hai Uno Hai Uno UK Iscritti Su TikTok E non trovi Il modo Di pubblicare La mia live Su TikTok Scrivi Perché sono moderatore Perché sul mio canale? Adesso nel mio canale State smettendo anche Mi ha detto Non sei in diretta Allora Solo per voi Che state guardando Qui dietro Vedete che c'è una torcina Io ho messo il carbone Poi noi qui abbiamo messo Carbone Oro La cacassoli Diamanti Fred Ho messo Abbiamo messo tutto Fino a qua Io e Christopher No, tu Nel mio canale Tu ospitami Così mi fai L'oste Fammi l'oste Fammi l'oste Ah, finalmente Mi stai ostando? Apposto Chi è? Chi è? Chi è? Oh, vengono Mi sembro Questa è casa di Ale Adesso ve la faccio Le doverle di un sacco L'ho finita Ho fatto solo i piani bassi E non è finito Oh, ma buono Fino a largo Io sono Nick Fefwoff Certo, è zì Ah, Nick Allora, apriamo questo Dovremmo aprire delle pressure clay Qui Bellissime Ah, qui Ecco qua Qui La prima stanza Le ha fatte il mio fratello Ale A parte queste qui Che le ho messe io Sono le armature Con tutti i nostri animatronics preferite D'Ale piace Golden Freddy A Kree La marionetta A Ryan Foxy Canta la canzone I'm not just a Foxy Puru Puru Eh, c'è che mi arriva il copo Il copo Zitto che mi arriva Il copo Poi questa è fatta Ale Armature supreme di Ale In questo magazzino non toccano Ma io se vuoi entrare in live con te Che non posso entrare Perché non partecipi Ah, qui come vedo ci sono il chest base Il chest del land I barili e il shooter Poi vedo ci sono le armature per andare Mi è arrivata una tipica Twitch Da Twitch Ah, sono gli messaggi privati Eh, ecco Ryan è entrato in live Finalmente E poi lì c'è l'ingasso La prima minera Ma inviola aiutata a me Ma inviola aiutata a me Ci sono due persone Due spettatori Cosa fa... Ci sono io E il moderatore Ryan No, ci sono due spettatori Io ho il moderatore Come c'è? Poi questo è l'ingresso Il piano superficiale Io vi farò vedere dopo E proverò a costruire Poi qui ci sono Ah, deve farne la fornace automatica Che non è automatica Che possa anche sospendere Non ci provare Allora, qui come vedete Ci sono le fornaci Le fornace con la fornace Quelle basi Con dietro le chest Che riempiono di carbone Che vengono in più Vuoi stare zitto? Una fornace in diamante Ti banno? Ti banno? Ti banno? Ti banno? Ti banno? Mi dissocio Mi dissocio Qui come vedete Ci sono le chest Le chest sotto Qui dietro ci sono I au pair Che da qui Dalle chest che sono qua Che sono belline rosse Prendono I carboni Che vengono dalle chest Che sono sul tetto Vi faccio vedere dopo Qui vengono tutti i materiali Che sono qui Che vengono riempiti Da sopra però manualmente Adesso andiamo a vedere il resto Non di sopra Infatti qui lascio la puerta aperta Vedi qui c'è un blocco di terra brulla Qui normale? Perché questo non è un blocco di terra brulla Fail Ma che cazzo è successo? Tu dovresti essere una botola Infatti Voglio sapere chi è quel pirla Che mi ha cambiato la terra La botola di terra In terra brulla Trap Che sono scritto? Ho scritto rap Trap Rap trap Waze rap Big Oh Mettiamo la botola di terra brulla Vedete che sembra normale E poi push Io volevo la fare così Scendevo Lo vedete qui sotto c'è Tutto un sistema di binari Allora vi faccio vedere da dove proviene Poi vi faccio vedere pure la stanza dopo Proviene dal di qua La stanza di sopra ve la farò vedere dopo Tipo Allora Ho provato Funziona Io attivo la leva che c'è qui sopra Passa qui sotto Si blocca Poi si riattiva Infatti ho sbagliato Mettere i binari Dopo voglio mettere quelli attivatori E i riattivatori Prende la roba che c'è qua sopra La roba che c'è qui sopra E la roba che c'è qui sopra Poi cammina Ma quello è un lava delle tenebre Poi passa di qua Rai mi ha titolato Rai perché è un genio Passa di qua Passa di qua Hai creato un gruppo Twitch? Si Tu? Eh? Hai creato un gruppo Twitch? Si Perché non mi fai entrare? Poi passa di qua Comunque Mancano due miei operatori Porca Mi dissocio Piromane mi dissocio Poi passa tutto qua e si riempiono queste perché si ferma qui e qui c'è l'hopper Che riempie tutte le ceste Che riempie Che riempie Che riempie Cosa è successo? Sono entrato nell'hopper Che riempie l'hopper che è qui sotto Comunque Questo c'è qui Riempie Questo è qui sotto Poi se vogliamo riempire le altre Devo scavare questo blocco qui e questo blocco qui sopra Per andare a mettere la roba lì dietro Intanto questa casa ideale lui non la userà La userà poco e niente Perché si metterà a vivere lì dentro Comunque li ho ricostruito quella spina Anche qui devo ricostruirla perché la cancellata Raiyan quella la ritroverà Io ce l'ho sempre da Oh Ormai ce l'ho del band Dal 2000 Da quando sono tornato su YouTube Ce l'ho più o meno Perché l'avevo smesso nel 2016 Allora ho iniziato nel 2016 Ho fatto due video di Dragon Ball Poi l'avevo smesso Poi l'avevo smesso L'avevo ricominciato nel 2017 mi sembra Nel 2017 Faccio un danno dopo l'altro Nel 2017 non ce l'avevo questa skin Perché giocavo a Mastercraft Poi dopo ho installato Minecraft Questo qui sì Nel 2018 mi sembra che ho creato questa skin E tutte le intro altre Comunque a questa è la cameretta di AVI Con l'armatura di verde e l'armatura di lime Che al contrario Il letto lime, il letto verde Con le mie testature pacche bellissime Poi tutte le cose verdi L'avevo messo Quelle che si possono posizionare ovviamente Ho perso la spira Che le finestre sono verdi Lì sono a farm Di mob Il sale è gelosino Il collino gelosino Per un pepino Dove devo andare? Sono andati qua Ah qui c'è la farm C'è la cosa di vestiti Qui dove Porco cazzo Qui riempì dispenser Con armature Che vuole Qui ovviamente dietro Non c'è niente Dietro è tutto È tutto smeraldo C'è la struttura Della macchina Questa È fatta con i dispenser La redstone I dropper I popper Un blocco dell'omega pure Una leva E tutti gli altri blocchi Che non sono indispensabili Fatti in emerald Infatti da qui in là È tutto emerald 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 Chi è il live? Comunque Io ho tre operatori Ho tre modera Mannaggia le porte La porta che non porta Comunque Io ho tre moderatori Uno di questi è Elvis Ryan E anche è presente Il live Qui devo finire Devo andare qui E l'altro è È uscito dalla live I'm not Ryan Uno è Ryan E questo è il punto C'è Batman Questo è il punto Che dicevo prima Io clicco la leva A parte il minecart Poi sono tutte le cesta riempite Questi sono tutti i blocchi Tutti i sedici blocchi di lana Che sono nell'obiettivo Perché Ale l'ha fatto Quell'obiettivo Ha trovato pure il carbone Il ferro E l'emerald Giusto per fare quei blocchi In survival E il resto non l'ha trovato A parte l'oro Il diamante La trova giusto i due Qui c'è la farm E di nuovo Allora come vedete Qui ci sono Tutti i minerali Che puoi trovare in miniera Qui c'è carbone Questa è entrata una cosa Questi sono tutti piccoli In minecraft Chiudiamo questa cosa Come si chiude Oh qui c'è E sembra terra Per un occhio Non esperto Che è appena entrato in minecraft E questo può sembrare Un semplice Cosa di terra Quindi se tu entri Vai Lì c'è un mob Quindi entra male di qua E tu entri nella sua cosa Tipo da fuori Da fuori Lì non si rinca nemmeno Sembra tipo Che lì Che un delfino Sembra che lì Non ci sia niente A parte un esempio affegato Che c'era Che camminare E un blocco di terra Sott'acqua Infatti E poi è un po' scopribile Ma non tanto Se sei finanziare In minecraft Oppure Non sei molto bello Oppure se sei Alex Nights Quest'ora non influisce Su in realtà Altri circuiti Tutti in questi casa Capito Niente Un blocco d'oro Bello 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 Ciao Batman Ma io do ricostruire Costruiamo con questo blocco Molto Family friendly Tipo Oggi ho guardato La live Di I'm not Hello Che è l'altro Mio moderatore In realtà Lui è molto più famoso Di me Ha tipo 50 follower Ormai Andate a seguirlo Se volete Per seguirlo Andate Sul mio canale Youtube Link in descrizione Una biografia Il mio canale Twitch Lo cliccate Il mio Youtube Ovviamente Poi andate In Non ho pubblicato Il video Vero Non ho pubblicato Il video Su Youtube Qui andate Nel video Che pubblicherò Il giorno Giovedì Moderatore Domani Il 14 Moderatore Mi scriva Sì sì o no Perché mi so piangere Moderatore Non dirmi Che ti sei messo A guardare Il VGF Adesso Moderatore Mi ha abbandonato Il moderatore Niente Allora Moderatore Cazzo sta Moderatore 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 Basta Ma Ti affermo E va Stanturo E niente Il moderatore È andato A farci bene Dire Questa stanza Mi ha detto Di lasciarle Vuote Quindi Le lascerò Vuote Questo Deve Costruire Lui Durante Il mio Video Di Yaitube Lo dico Storto Perché Sennò Mi arriva Il coppo Il coppo Di Aia 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 Tu Berenza Saliri Saliri Ecco Questo Madonna Abdel Buja Buja Porca Troia Mi dissocio Da quello Che ho detto Qui dovrei Dividere In due Piani A partire Dalle finestre Lì Come vedete Da qui Al centro Dovrei fare Due piani Solo Che il mio Moderatore Non vuole Entrare In chat Quindi Vado A picchiarlo No Moderatore 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 Ok Vado In camera Da letto Del Moderatore Mi Dissocio Moderatore Perché non è live Moderatore L'ho chiesto una cosa Moderatore Ma no Tu sei parte Del mio team Ma non c'entra quello Io sono un gruppo Così quando vai in live Io posso venire in live Ma moderatore Quella roba Dobbiamo fare nel video Di domani Di youtube Dal mio pc Quindi moderatore Può entrare in live Gentilmente Che l'ho chiesto una cosa E sembro deficiente A fare così tutto il tempo Ok moderatore Che vuole moderatore Moderatore Non può condividere La mia cosa Con i miei iscritti O devo farlo Da me Dal mobile Io mi chiamo Elvish Guarda Vado nel mio account Sto trasmettendo Sì perché tu sei editor Puoi fare quello che vuoi Il mio canale Posso anche Mi dissocio Così non possono fare niente Comunque moderatore Io le ho chiesto una cosa Domani giovedì 14 Sì io devo fare la sospensione Bravo Moderatore 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 c'è un bambino altissimo che apriti una botola di ben 16 anni già che ci penso Gabby Niccaradonia LionVGF Telongame Hemel Nomi Molti nomi Sono arrivati a mille iscritti anche intorno all'età avete capito io con 16 anni YouTube no no, non ho più in 70 su YouTube non ho due tu hai visto che non ho solo 3 anni su YouTube non ho questo è il nostro canale migliore è è è è è moderati moderata moderato 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 no sto scrivendo moderato avido porca troia mi si è bloccato tutto mi dissocio da quello che ho detto quindi come si faceri a passare in bottolini comunque De Luca è un genio penso a bere il latte dopo gli undici perché sono entrato qua io non so niente perché c'è assemblamento poi ecco vi faccio vedere il resto ciao mucchi come vedete questo percorso fa tutto io qui ci sono pure i miei belli fareti cercare la moderato 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 mi cosi perché sono aperto le mie buotole qui ci sono gli ascensori d'acqua vanno su e giù comunque questo è un negozio di mio cartello ali lui è fabbri è fabbro vedete che è fabbro lui mi dissocio grazie a tutti grazie a tutti il microfono disattivato scendiamo questo è la prima sala d'attesa è tutta così perché facciamo un troppo facciamo così facciamo così la prima sala d'attesa 2 è tutta la prima sala d'attesa 2 la 1 completamente uguale quindi avete qui sale e questo scende si deve prendere questo pino e faccio così ma questo è poi il mio e vedo tutto e questo è il mio 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 e questo è l'uscita l'acqua e questo è il mio e questo è il mio e questo è la la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.